Musica Questa è la terza edizione di Nottambula che si terrà domani il 13 agosto praticamente e facendo tesoro delle passate edizioni abbiamo deciso praticamente di spostare il palco principale da piazza Papa Giovanni XXIII sotto a Corso Umberto, sotto al monumento dei caduti appunto per diciamo prevenire oppure per evitare il tappo che si è creato l'anno scorso e quindi ha impedito in un certo modo il flusso, il via vai della gente da sotto e sopra Il padrino della serata Paolo Migone, il famoso comico di Zelig e in più successivamente all'esibizione del padrino della serata ci sarà l'estrazione della lotteria con il primo premio La Crociera dalle 23 ci sarà l'esibizione del comico Allora i principali spettacoli itineranti di quest'anno come al solito ci saranno gli artisti di strada che saranno dislocati in tutto il centro in diverse postazioni itineranti poi avremo a differenza dell'anno scorso e degli anni scorsi avremo tre street band che andranno in giro per tutto il centro storico due sono abruzzesi una del nostro paese che sono i Zurban Zoo che fanno musica popolare delle zone nostre poi avremo un'altra street band abruzzese i Briganti della Maiella che fanno musica abruzzese popolare e in più avremo i Magica Bula Breast Band che sono una band Italia di Bologna che hanno suonato in diverse notti bianche anche a Parigi, Barcellona, Londra e in diverse località italiane sono abbastanza famose poi avremo a differenza degli anni scorsi delle brasiliane quest'anno abbiamo preso queste ragazze che sono cinque ragazze che fanno musica anni 70, 80 e 90 dove si serviranno in tutti i locali in parecchi locali del centro e faranno divertire i giovani e i non giovani facendoli ballare e divertire ci sono altre associazioni di San Salvo che partecipano alla Notte Bianca che sono il Vespa Club di San Salvo che faranno una mostra nella villa comunale e oltre alla mostra ci sarà anche una ripetizione video una ripetizione video poi quest'anno non abbiamo tralasciato nulla per i più piccini ci saranno tre posti per i gonfiabili uno davanti al centro culturale Aldomoro uno davanti alla scuola media Salvo d'acquisto e uno in piazza San Vitale allora per quanto pure questa terza edizione verrà riproposto il servizio navetta visto che è stato positivo per le prime due edizioni ci saranno sei fermate allora il servizio partirà dalle ore 19 e come ultima fermata sarà a partenza da San Salvo alle 5 di mattina ci saranno sei fermate sul lungomare di San Salvo Marina la prima fermata sarà il bar meeting il beat cafe di fronte alla Cavravella la playa Hermosa davanti al fast food zona fast food e lo stabilimento Le Marinelle a San Salvo l'unica fermata sarà vicino al bar Ladea ci saranno sei punti abbastanza visibili di servizi igienici di cui ci saranno 18 bagni chimici e due per disabili i due disabili verranno posizionati uno nella villa comunale e uno vicino a piazza San Vitale quest'anno per dare un servizio migliore a tutti abbiamo fatto stampare 6.000 mappe che verranno distribuiti all'ingresso della manifestazione la mappa è questa qui dove vengono riportati tutti i punti principali e non principali della serata dove ci sono i mercatini dove ci sono gli artisti di strada dove ci sono i confiabili per i bimbi dove è un po' sintetizzata tutta la manifestazione e niente questo poi volevamo ringraziare l'amministrazione comunale di San Salvo e tutti i commercianti che hanno aderito a questa manifestazione e i sponsor che ci hanno dato una grossa mano per realizzare questa serata senza di loro messi insieme non avremmo potuto realizzare questa serata quindi grazie a tutti e buon divertimento a tutti grazie a tutti